ciao amici di napolità benvenuti in questo video oggi prima di iniziare prima di tutto voglio ringraziare come al solito tutti gli abbonati voglio ringraziare e di invitare ringraziare i nuovi iscritti e di invitare a chi sta passando in questo momento su questo video a iscriversi al canale a lasciare un like per noi fondamentale attivare la campagna delle delle notifiche per non perdere nessun contenuto di napolità ricordatevi sempre l'app di sofascorri in basso questa applicazione che è completamente gratuita parla di calcio le statistiche di tutti i calciatori in questo momento serve perché c'è il mercato dobbiamo andare a vedere tutte le statistiche dei calciatori avvicinate al napoli e www.napolita.it il nostro sito ufficiale ragazzi io voglio veramente ringraziare tutti ieri sera abbiamo fatto una live che è durata un'ora e 40 un'ora e mezza non mi ricordo precisamente dove ci sono stati oltre mille collegati per tutta la trasmissione ragazzi vi ringrazio tantissimo e questa crescita di napolità è straordinaria in un anno difficile e complicato siamo riusciti ad aumentare tantissimo gli iscritti ma soprattutto la gente collegata ragazzi vi ringrazio di cuore prima di tutto che ci seguite state con noi vi dico sempre che napolità è la vostra casa io ci sono io qui ma per me siete voi fondamentali e voglio farvi complimenti perché ho letto dei commenti di un livello assurdo dei commenti che non sento neanche in televisione dagli addetti ai lavori è veramente difficile trovare delle analisi e delle disamine che sono veramente fantastiche io non vi nascondo che appena finisce la live voglio ovviamente mandare un bacio e salutare claudia vivenzio che ieri è stata con noi eccezionale una professionista di altissimo livello però non vi nascondo che appena finisce la live io vado a leggere i commenti e vedo dei commenti straordinari che mi arricchiscono quindi grazie raga grazie per tutto grazie perché ci siete ma grazie soprattutto per la qualità e contenuti che mettete nei commenti è straordinario veramente veramente non ho parole grazie grazie di cuore andiamo poi a parlare di quello che sta succedendo ragazzi perché sono giorni ormai come posso dire ogni giorno escono nomi van derson giocatore del monaco per per metterlo qui sulla fascia destra questo 343 barra 3421 di antorio conte si fa ancora insistente la situazione chiesa lo chiamo sempre ricocchiesa quello si chiama federico perché il padre lo adorava però la situazione federico chiesa sembra in uscita dalla juve la juve che sta cercando di fare delle operazioni un po particolari questo cup minor il napole aveva offerto quasi 50 milioni ma i percassi subito i percassi perché io inquadro padre e figlio hanno detto no a della orentis la scorsa stagione vediamo se invece dicono sia alla juve vediamo questa diversità poi sono i giocatori sono loro cercano loro e quindi nell'operazione cup minor la stessa cosa mi sembra che cala fiore vicino alla juve ci può essere anche l'operazione chiesa che serve ovviamente a introitare un po di soldi perché la juve non ha la possibilità non ha la forza di andare a fare queste operazioni in questo momento il napoli è l'unica squadra che può permettersi antonio conte e può permettersi di andare a fare un'operazione importante e c'è nel milino anche la situazione osimen lukaku e poi ci sono anche quelli che sono i prospetti napoli quelli che sono praticamente inquadrati da tempo dalla società possiamo parlare di venez da tempo parlo da quest'anno no perché alla fine tutti sapevamo che al 90 per cento diciamo anche 95 per cento victor osimen andrà via ricordiamo all'operazione durante la stagione non voi la sapete benissimo no il contratto a 10 milioni con l'inserimento di questa clausola di 130 quindi io sono sicuro che il napoli nel frattempo abbia inquadrato quelli che possono essere i sostituti di osimen perché ricordatevi sempre le parole di conte non bisogna sbagliare in una squadra il portiere è l'attaccante il portiere dobbiamo capire che vabbè del portiere parliamo tra pochissimo comunque si sta parlando un po di dobbio si sta parlando un po di cimene che si venez di menez scusatemi sempre le pronunce chiedovenia non le so dire bene si è parlato anche di di okeres per un giocatore che devi dare i 100 milioni un giocatore in questo momento che secondo me è anche nel mirino di top club il napoli lì non è che si può avvicinare tanto poi ci sono sempre gli altri c'è jonathan david c'è per esempio gira sì questo calciatore che vi fece vi feci vedere qualche video fa o moro di on questo giocatore molto ma molto interessante proprietà dell'atletico madrid giovanissimo 21 anni che può esplodere da un giorno all'altro però secondo me lì ci vuole il via libere lascia passare di antonio conte c'è ancora la situazione lukaku che però parla esso dice la rabbia perché no è un campionato che sta diventando importante ci sono le parole di enzo maresca dice io voglio tenere non lo dice lui però ci arrivano notizie che enzo maresca piace romelo lukaku nel gioco che vorrebbe fare con il celsi e quindi quindi ad oggi è un po tutto così è una chiacchierata però io vi dico sempre che è importante per noi riempire la valigia della cultura calcistica riempire la scatola utilizziamo una frase che spalletti diciamo che voleva sempre riempire questa scatola allora mettiamoci la satola della cultura calcistica quindi parliamo sempre di calciatori però ricordatevi che da me ne parliamo con me ne parliamo solo per caratteristiche non dico che stanno arrivando a napoli quindi ci sono ancora tanti punti interrogativi io aspetto sempre per capire quale sarà la valutazione della rosa attuale per antonio conte perché dobbiamo capire quali sono i punti da ripartire perché c'è da sistemare la situazione di lorenzo che è ancora lì messa lì perché lui ora è in nazionale c'è la situazione anche caraschela però vi dico la verità in questo momento il napoli vuole trattenere il giorgiano a tutti i costi mi dicono anche che l'offerta del pari saint germain che dicevano di 100 milioni sia addirittura di 60 barra 70 una notizia che vi riporto letta un po sui quotidiani quindi lascia il tempo che trova ma prendiamola per buona quindi dobbiamo capire prima di tutto cosa succederà con quelli della rosa perché ci sono quei tifosi che non vogliono sapere niente se ne devono andare tutti perché ovviamente dopo quest'anno è la prima cosa che uno pensa che se devono andare tutti però io ci tengo ad aspettare la parola e ovviamente gli occhi di antonio conte perché parto sempre dal presupposto che antonio conte sceglie napoli perché è convinto per tutto di non bruciarsi no diciamola proprio così chiara e precisa quindi è uno che che ci tiene alla sua immagine che viene a perdere tempo al napoli e soprattutto si accetta napoli perché ritiene questa rosa forte che poi deve essere puntellata che poi dobbiamo appellarci a quello che dice orello dell'aurentis ricostruzione totale quindi probabilmente una buonissima parte di questi calciatori andranno via però secondo me dobbiamo lavorare step by step capiamo prima quali sono i calciatori che antonio conte vuole e ritiene quelli che devono far parte della squadra titolare del napoli e poi andiamo a metterci vicino i possibili acquisti però di questi giochini le facciamo raga ho pronto due tre formazioni già che ho studiato che potrebbero essere buone no anche facendo un giochino mettendoci qualche giocatore forse difficile da prendere però in questi giorni tanto abbiamo tempo raga ve li porto vi porto il mio napoli con antonio conte facciamo un po di giochini tanto ci abbiamo tempo avanti a noi però io questo video lo voglio terminare citando un ex calciatore del napoli perché ieri di solito a me non piace tanto l'idea di calaiò proprio sul calcio non mi trovo sempre d'accordo sulle sue opinioni però ieri ci ha regalato una cosa molto importante che io vorrei far arrivare a tutti i calciatori del napoli perché così si capisce un po antonio conte a parte che abbiamo letto un po ovunque anche quelle quelle a citazione di borrillo quelle parole di borrillo che parlavano dei dei suoi battiti a 190 addirittura con delle esercitazioni di borrillo però è importante andare a sottolineare le parole di manuele calo perché lui ieri parlò della sua esperienza con antonio conte il suo ritiro con antonio conte e fa un passaggio che secondo me è fondamentale dice io quando ho iniziato a fare quelle esercitazioni mi sentivo di morire perché erano esercitazioni veramente pesantissime però il mister è stato bravo ad entrarmi nella testa perché lui mi diceva sempre emanuele dai vai così non ti preoccupare che poi benefici li ritrovi durante la stagione vai con forza ed era così con tutti quanti è uno che c'entra proprio nella testa e emanuele poi ci dà il risponso no ci dà ci dà la il finale che che arriva dopo questa cosa dice dopo due tre mesi nel campo volavo prima di tutto quegli esercizi nelle prime settimane erano pesanti poi dopo le facevo veramente con semplicità e poi non vedevo l'ora di farlo e poi dopo due tre mesi ragazzi non solo volava in campo emanuele calaio ma dice proprio tessuali parole dice io non mi riconoscevo ero un giocatore completamente nuovo ed ero fortissimo e questa cosa deve arrivare calciatori raga perché prima di tutto devono concentrarsi per il bene del napoli ma per il bene di loro stessi perché la prima cosa che il calciatore vuole fare che cos'è vuole e vuole aumentare il proprio livello anche di giocatore no perché tu fai il giocatore vuoi essere forte vuoi diventare quanto più forte possibile e Antonio Conte può fare questo le parole di Emanuele Calaio dovrebbero essere scritte no nel nello spogliatoio perché se se tu riesci a riportare ed è secondo me questa la prima cosa che ha portato il Napoli a scegliere Antonio Conte perché la prima missione del del mister è quella di riportare i nostri calciatori quelli forti quelli che non erano finti raga quando abbiamo vinto lo scudetto non è che erano altri ma secondo me il lavoro principale di Antonio Conte è tirar fuori il meglio che praticamente sti ragazzi hanno perché raga quando hai vinto lo scudetto alcuni calciatori sono stati fantastici e c'è tantissimo merito di spalletti però secondo me Antonio Conte è l'unico in questo momento che può tirare fuori da loro quella voglia quelle caratteristiche che ci hanno portato a vincere lo scudetto quindi la prima è questa Antonio Conte deve rimettere in sesto i calciatori che l'anno scorso erano delle controfigure erano veramente l'ombra di loro stessi e poi di lì dobbiamo andarci a mettere vicino qualche giocatore che praticamente può essere preso nel mercato di giugno che poi possiamo addirittura chiamarlo di riparazione per quello che è successo la stagione passata però la prima missione del mister è proprio rite stavo dicendo una parola brutta non dico di ricreare perché poi no però di rimettere le cose a posto e la cosa importante da dover capire è quali saranno i punti fermi della stagione prossima e chi invece dovrà salutare i colori azzurri ragazzi io vi saluto questo è proprio un video perché perché poi questo video lo voglio chiudere con le parole di Conte poco fa parlato in un video che salutava i tifosi del Napoli ci ricordava di questa partita dove lui marcava Maradona ma soprattutto ci dice una parola ed è questa la parola che fa iniziare la nuova stagione del Napoli questa è la cosa importante poi si vede dove si arriva per ora la scelta per me è quella giusta poi il campo dovrà dare la sua risposta ragazzi io vi saluto un bacio e un abbraccio da Sasa sempre forza Napoli ricordatevi di fare sempre le stesse procedure il like per noi fondamentali i commenti fatemi sapere che ne pensate oggi è un video proprio ecco abbraccio quindi voi sotto nei commenti scrivetemi quello che volete perché io vi rispondo sempre vi rispondo con un cuore azzurro cerco di rispondere alle vostre domande sono a completa disposizione un bacio e un abbraccio da Sasa e sempre forza Napoli ciao